Occupano il cantiere in segno di protesta. Succede a Matelica, dove i subappaltatori dell'hotel Agorak, ancora in costruzione, presidiano lo stabile e fanno lo sciopero della fame contro il nuovo blocco dei lavori. Tutto è fermo infatti da quando i 5.400.000 euro erogati dalla Carifac sono finiti. La vicenda in effetti si perde nel tempo. I lavori erano già stati bloccati in passato per due anni. Un ricorso al TAR da parte di un albergo della concorrenza infatti aveva predisposto il sequestro temporaneo della struttura. Due anni di interruzione che hanno lentamente consumato il finanziamento erogato e senza fondi oggi i lavori sono di nuovo fermi. Già da ottobre i dipendenti non percepiscono più i loro stipendi e i lavoratori e l'amministrazione del comune di Matelica chiamano in causa la Carifac per un nuovo prestito di 3.800.000 euro. La Cassa di risparmio, essendo una banca locale, è una banca che determina fortemente lo sviluppo del nostro territorio. E io credo che non possa essere deputato questo sviluppo a 6-7 persone che hanno preso una decisione di carattere politico e che in qualsiasi momento possono prendere una decisione di questo genere. Nell'attesa della risposta dell'istituto di credito però, i subappaltatori rimangono con le mani legate e giurano che non se ne andranno dal cantiere fino a quando non riusciranno a ottenere il prestito necessario per la ripresa dei lavori. Le ditte sono qui da 10 giorni, non ci sono più fondi di nessun tipo neanche per pagare la benzina delle proprie vetture, non possono neanche prendere altri appalti perché i fornitori che hanno fornito i materiali per questo albergo, ovviamente essendo scoperti, non consegnano più materiale. Quindi è una crisi generale che rischia di peggiorare col passare del tempo. Unica nota positiva è l'attenzione dei matelicesi che hanno dimostrato piena solidarietà agli occupanti. Dobbiamo dire grazie solo alla gente di Matelica che ci porta qualcosa da mangiare perché tutti quanti gli altri vengono qui 5 secondi, chi è venuto poi, che la maggior parte manco si è permessa di venire qui, viene qui, ci provata delle promesse, sì sì ci pensiamo, sì sì ci pensiamo e comunque scappano via ugualmente.